Al meglio il mio amico è che sta a riposare a stilare la roba Dov'è la tua moglie? Dov'è la? A parlare, a parlare, che lo stia Guarda come sei ridotto, venduto Dio poi, dai che ce la fai Guarda che devi stirare anche la mia Ha tutto mai, ho fatto pratica Guarda come sei ridotto, venduto Dio poi, dai che ce la fai Guarda come sei ridotto Guarda come sei ridotto, venduto Dio poi, dai che ce la fai Guarda come sei ridotto, venduto Dio poi, dai che ce la fai Guarda come sei ridotto, venduto Grazie a tutti, grazie a tutti.